Ciao amici di Bad di Casa, qui è Veronica e io sono Raffa e oggi siamo in New York! Sì, sono molto generoso, per questo abbiamo lavorato qui, ma ci sono molte persone. E' difficile andare là o no? Con un po' di equilibrio e pratica, qualcuno può farlo. Ciao a tutti! 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 E ho incontato tantissime persone qui qui, quindi è stata una buona esperienza. Ciao a tutti! 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 Perché si fanno subito e subito ogni giorno! È così! E tu sei da qui? Sì! Noi non spesso? Noi non è? Noi non! Non è ora di fare il挑ere adesso! Si chissate una molto difficile, perché qui al Times Square, è molto impossibile a trovare alcune persone da New York dobbiamo cantare la canzone di Fran Sinatra andiamo a trovare alcuni locali Sorry, sei da New York? No Do you think I tell you from here? No, sorry Star is spreading the news I'm living today I wanna be a part of it New York New York I'll find my king of the hip Top of the hip Right through this very part of it New York New York If I could make it there I'll make it anywhere It's up to you New York New York New York I wanted to sing this one not the other one New York 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 My name is New York New York New York New York New York Puoi essere veramente chi ti pare. Puoi essere te stesso al 100%. Vabbè, ti saluto perché ci stanno per imbarcare. Rafa, let's go! Ciao!